Marco Cavazzano 16, numero 7 Chi è che c'è? Di noi Numero 16, entra il 7 Storia Bell'aria ragazzi Guarda, guarda è di nuovo a sua, porco Dio, è troppo alto, è troppo alto, è troppo alto, è troppo alto. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.